Mir 2019, quarta edizione, siamo qua con il presidente del Sib Maurizio Pasca, alla quale appunto domandiamo, dopo questo convegno che c'è stato tra le parti interessati ai lavori, come poter risolvere, tra virgolette, questa crisi nel mondo delle discoteche. Decisamente meno burocrazia. Poi dall'incontro di oggi, dal convegno che ritengo sia stato molto interessante, con la partecipazione di relatori illustri, sono emerse delle novità che potremmo introdurre all'interno dei nostri locali, ossia promuovere la musica dal vivo all'interno delle nostre discoteche e di poter permettere anche loro di non fare soltanto le ore notturne, ma anche di aprire nelle ore pomeridiane, incentivando appunto la musica come cultura. Quindi la chiave della soluzione è parlare tutti insieme, unirci, e la cultura potrebbe essere appunto la soluzione. Ma certamente la musica ritengo che sia stata sempre considerata cultura, anche se nel nostro paese, in Italia, è vista sotto altri occhi diversamente da come lo si vede negli altri paesi europei. Io mi auguro, e ne sono certo, che dagli incontri che si stanno sviluppando sui vari tavoli governativi, prima fra tutto quello con il Ministro della Cultura Bonisoli, venga data la giusta attestazione a chi promuove appunto la musica come cultura. Quindi unendo tutte le forze tra le varie parti e tra coloro che hanno i ruoli e dando poi il giusto spazio a coloro che devono far divertire la gente per far divertire la gente e non perdersi in burocrazia, questa potrebbe essere poi la chiave. Sì, certamente, ma innanzitutto un divertimento sano e corretto. Bisogna anche correggere gli stili di vita della nuova generazione, di questa nuova generazione. L'educazione a casa parte prima di ogni cosa, no? Ma certamente sì, a noi vengono infutati, diciamo, c'è tanti di quei problemi che non ci riguardano, che devono partire innanzitutto dall'educazione che avviene all'interno delle famiglie. Noi non siamo educatori, certamente abbiamo un ruolo sociale in quello che ci compete, ma ripeto sempre da tempo che i veri educatori dei giovani devono partire da... sono i genitori, la famiglia, la scuola e le istituzioni. Anche perché poi, nel passato, i genitori sono stati in discoteca prima dei giovani, quindi questa discoteca dovrà andare nel futuro. Ma certamente sì, qualcosa deve cambiare, non dobbiamo ancorarci a quella che sta la discoteca negli anni d'oro, negli anni 70-80. C'è una visione diversa emersa oggi appunto da questo convegno, la porteremo avanti costituendo un tavolo di concertazione con vari soggetti e cercheremo di migliorarci nel tempo. Bene, ringraziamo Maurizio Pasca e un buon lavoro e appunto rilanciamo nella giusta maniera le nostre discoteche. Grazie. Grazie a voi. Grazie.